Due arresti e una denuncia tra Ragusa e Acate, forze dell'ordine sempre a lavoro. Nel capologo Ibleo gli agenti della mobile hanno tratto un arresto in esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Siracusa un pregiudicato ragusano di 46 anni, Carmelo Puccia. L'uomo che a precedenti pareati contro il patrimonio e detenzione spaccio di stupefacenti era affidato ai servizi sociali ma avrebbe violato le prescrizioni imposte e per questo il magistrato ne ha disposto la restrizione in carcere. Ad Acate invece i carabini erano rintracciato e arrestato. Un pregiudicato romeno, Aaron Edward, 29 anni, in esecuzione ad un provvedimento emesso dalla magistratura del suo paese. Il giovane era ricercato in Romania perché condannato a un anno di reclusione per guida senza patente sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Infine i militari della compagnia di Vittoria e i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa hanno effettuato sempre ad Acate una serie di controlli presso alcuni cantieri edili che hanno portato alla denuncia di una donna catese di 49 anni titolare di un'azienda edile però messa tenuta ed esibizione del piano di montaggio uso e smontaggio relativo al ponteggio. All'imprenditrice sono state inoltre elevate sanzioni per un importo complessivo di circa 2.000 euro.